Il Paradiso, anticipazioni dal 22 al 23 marzo, Gloria Gemma spiazza in abito da sposa. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 22 e 23 marzo 2023 rivelano che per Gemma arriverà il momento di prendere una decisione che si rivelerà drastica, ma al tempo stesso dovuta per poter voltare pagina definitivamente. Gemma, invece, dopo aver indossato un abito da sposa, finirà per spezzare il suo amico Roberto Landi. Chi si ritroverà ad essere colto da una folgorazione improvvisa? Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata del Paradiso delle Signore del 22 marzo rivelano che Matilde si ritroverà ad essere profondamente segnata dalla cacciata da Villa Guarnieri da parte della Contessa de Laide e dalla sua uscita di scena dal grande magazzino milanese. Intanto Maria si ritroverà ad essere sconvolta dalla scelta di Flora Ravasi di gettare la spugna e mollare il suo incarico al negozio proprio adesso che c'è l'organizzazione della nuova sfilata di abiti da sposa. Per questo motivo, infatti, Puglisi sarà amareggiata e delusa dal comportamento di Flora e non perderà occasione per affrontarla duramente. Intanto, però, c'è da organizzare al meglio la nuova sfilata, Vittorio deciderà di affidare questo incarico a Maria. La quale si ritroverà ad affrontare la sua prima vera sfida importante dal punto di vista lavorativo. Occhi puntati anche su Irene, le anticipazioni di questa nuova puntata del Paradiso delle Signore del 22 marzo rivelano che la Venere non riesce a spiegarsi il perché dell'incontro tra Vito è quella ragazza misteriosa, dato che Maria non sa nulla di quanto sta accadendo. A quel punto, Irene deciderà di parlarne con Alfredo e chiederà al ragazzo di poter indagare su questa situazione. Così da scoprire la verità sul conto di Vito e capire se il ragazzo sta mentendo e ingannando la giovane Puglisi. E poi ancora, le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 23 marzo rivelano che per Gloria arriverà il momento della scelta finale, legata alla sua delicata situazione sentimentale con Ezio. I due continuano ad essere amanti in segreto ma, in questo nuovo appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1, Gloria si ritroverà a prendere una decisione a dir poco drastica sul suo futuro, che finirà per avere delle conseguenze inaspettate. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, in vista della sfilata che si terrà al Paradiso, Gemma indosserà un abito da sposa. Tale scena finirà per spezzare Roberto che, a quel punto, avrà una vera e propria folgorazione improvvisa, il giovane Landy. Infatti, metterà a punto un piano che potrebbe salvare Gemma dai suoi problemi legati alla gravidanza. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac Si ce spun știi, nimic nu mai e la fel, pupilăria s-a maturizat sever, s-a luvit până acum de fel de fel De oameni, de păreri, entipuri de caracteri De văd comune